Scena, tu in ufficio, arriva il titolare, la titolare, il tuo superiore e ti comincia a dire guarda hai fatto quel lavoro ma è stato un lavoro da schifo, una cosa pessima, lo devi assolutamente rifare perché avevamo delle scadenze e sono veramente infastidito da questa cosa. Come reagisci? Come reagisci rendendoti conto che effettivamente il tuo lavoro non era perfetto ma allo stesso tempo ti senti mortificata all'eccesso e ritorni indietro di qualche anno a quando eri piccola e magari tuo padre ti apostrofava in modo pesante e ti faceva sentire uno schifo, ti faceva sentire una nullità. In quel momento hai solo voglia di piangere per cui ti blocchi, cominci ad avere una sudorazione fredda, non dici nulla, rifai il lavoro alla chetichella, torni a casa e rimuggini per una settimana. Sai quale potrebbe essere una risposta assertiva? Ha ragione, mi rendo conto di aver sbagliato qualcosa ma avrei preferito me lo avesse detto in modo meno brusco.